Deputato al Parlamento Europeo, Forza Italia e Partito Popolare Europeo, al secondo mandato, Presidente della Delegazione della SIA Centrale, membro ENVI per la Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare e di membro sostituto Econ, Commissione per i problemi economici e monetari, un napoletano che ha saputo portare la propria città al centro del dibattito europeo. Premio per sempre e scugnizzo per l'impegno civile a Fulvio Martusciello! Grazie a tutti!